Il governo ha annunciato la nomina di Lino Banfi, il mitico Ronzo Canà, nella Commissione italiana per l'UNESCO, una nomina che non mi fa venire la puzza al naso, meglio Banfi che Umberto Smaila, prenotato da Salvini per un prossimo incarico. Banfi come attore ha saputo entrare nell'immaginario collettivo degli italiani pur senza essere Lorenzo Livier, semmai ha detto una cosa che poteva risparmiarsi o che avrebbe potuto dire in altro modo, evitando di far proprio l'antico pregiudizio nei confronti di chi sa leggere e scrivere, quando presentato da Di Maio ha detto in mezzo a tanti plurilaureati porterò un sorriso. I sorrisi fanno sempre bene, ma anche i professori frequentandoli si impara e quel luogo si chiama scuola. In qualche modo Banfi con un certo evitabile sussiego ha voluto fare omaggio alla cretinocrazia molto di moda in questo periodo. Il sottosegretario Carlo Sibilia, che di tempo deve averne, ha promosso sul suo profilo Facebook un sondaggio che prende spunto proprio da Banfi Canà. Ha chiesto chi scegliete? Tra Banfi all'UNESCO, nell'Italia con il reddito di cittadinanza e Renzi, presidente del Consiglio, hanno risposto quasi 47.000 persone che si sono divise in quote dell'87 del 13%. Tra Banfi e l'Italia con il reddito di cittadinanza e Renzi, l'87% ha scelto Renzi. Sibilia ha spiegato il clamoroso autogol all'Aristoteles allenato da Canà con il fatto che elettori e simpatizzanti del Partito Democratico sono accorsi in massa a rispondere. Non è questa una buona notizia per Sibilia perché vorrebbe dire che nessuno dei suoi se lo è filato. Intanto ne ha collezionata un'altra a cui prevedibilmente ne seguiranno altri da cui neanche la Madonna dell'incoronata di Foggia potrà salvarlo. Chi va per questi mari questi pesci piglia e così di nuovo il sottosegretario finisce sulla ribalta della satira nazionale. Come abbiamo detto non sarà l'ultima volta, si riproporrà prestissimo, ne possiamo essere certi. Bentrovati a Studio Sera, benvenuti ai nostri ospiti Donato Pennetta, Valentina Paris, Angelo D'Agostino, Pino Rosato. Allora, mi accorgo che li presento per cui metto in difficoltà un po' tutti. Allora, parleremo di molte cose. Parleremo della Lioni Grotta Minarda perché ci sono importanti quanto insospettabili novità che vengono appunto da una fonte al di sopra di ogni sospetto per spiegarsi questa cosa stranissima e molto negativa per la nostra provincia e per i contribuenti in genere. Parleremo di sanità, parleremo anche del comune di Avellino. Io partirei subito però dalla Lioni Grotta Minarda perché la novità qual è? È che il capo della segreteria tecnica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dimitri Dello Buono, sostanzialmente ha smontato il castello di bugie e di avventurismo, tutto sommato, che abbiamo visto in queste ultime settimane dopo la mancata revoca della struttura commissariale. Dello Buono che cosa ha detto? Ha detto che questi in tre giorni hanno preso una decisione che forse andava pensata meglio, non hanno previsto gli inghippi, le difficoltà a sostituire una gestione commissariale con una ordinaria. L'occasione è stata, vediamo le immagini, quella di ieri l'altro quando Dello Buono insieme a Sibili ha partecipato al tavolo tecnico sull'alto calore promosso appunto dal Presidente Biancardi e dall'amministratore di alto calore Michelangelo Ciarcia. Partiamo da qua, partirei con Valentina Paris. Insomma è inspiegabile questa cosa, adesso abbiamo capito perché, da qui abbiamo detto che è stato uno sfizio personale che in questo caso Sibilia si è tolto chiedendo a Toninelli di smantellare senza alcuna garanzia, senza alcun soggetto sostitutivo che rappresentasse la committenza e l'analisi costi benefici di cui si parlava, non è mai esistita, stiamo parlando di una strada che si concluderà fra 7 chilometri per la quale sono stati spesi 356 milioni sui complessivi 430, uno sfizio. Ahimè più che uno sfizio c'è sicuramente un problema di incompetenza generale rispetto alle infrastrutture che credo riguardi il Ministro Toninelli e tutta evidentemente la struttura del Movimento 5 Stelle che in Italia sta di fatto rallentando e danneggiando la ricostruzione di opere fondamentali. Non torno su quello che è accaduto a Genova perché è anche una ferita aperta, ma pensare che per 7 chilometri di strada nella provincia di Avellino ci sia chi invece di pensare come si accelera per chiudere i lavori, ci sia chi pensa che deve sostituire le strutture commissariali perché magari non hanno risposto immediatamente al telefono o chissà per quale altra ragione o perché i commissari non vanno mai bene a prescindere con un pregiudizio tra l'altro anche per chi svolge funzioni di responsabilità secondo me oramai assurdo. Tra l'altro bisognerebbe chiedersi perché è stata necessaria una struttura straordinaria rispetto alla struttura ordinaria che doveva occuparsi di sta cosa. Angelo ma da imprenditore questa cosa sta provocando già alcune cose molto serie. Intanto quando e se riprenderanno i lavori ci saranno costi aggiuntivi per la ricantierizzazione, così ho letto, costi che potrebbero anche esorbitare il 20%. E poi ci sono le imprese che non hanno una committenza e quindi si fermano e possono, mentre licenziano nel frattempo, ingaggiare un contenzioso in questo caso. Come funziona quando accadono di queste cose? Un imprenditore dove batte la testa? Il fatto che si voglia fare un'analisi costi e benefici quasi al 70% dell'opera, voglio dire, la dici lunga, credo che chiunque, anche chi non è un imprenditore possa in qualche modo fare due conti e dire ma l'analisi costi e benefici va fatta prima, certamente non va fatta quando si è raggiunto già l'80% dell'opera. E ovviamente questo in dirruzione, così brusche, senza né capo né coda, procureranno dei maggiori costi, oltre che maggiori tempi per le opere. Quindi è fuori di dubbio che, come diceva prima Valentina, c'è un'incompetenza più totale su questo. Se noi pensiamo che Toninelli ha detto, per quanto riguarda la tab, sospendiamo per sei mesi, otto mesi e poi dopo vediamo. Io credo che quando uno fa una cosa del genere deve anche rendersi conto l'apparato strutturale dell'imprenditore qual è, perché per mettere in piedi un cantiere ci sono dei costi esorbitanti. Non è che si possano sospendere per otto mesi e mandare a casa tutte le persone che ci stanno, oppure io non so, non c'è veramente proprio la minima, proprio l'ABC, diciamo, di come può essere gestita un'opera. Qui abbiamo detto che un po' anche su questa cosa, abbastanza piccola, cioè si toglie la struttura commissariale alla Lioni Grotta Minarda e naturalmente si guardano bene dal toglierla, per esempio, ad un'opera come l'alta capacità Napoli-Bari che costa 6 miliardi e 200 milioni e forse qualcosa in più. Ma vedi, togliere la struttura commissariale significa che io ho già immaginato una soluzione alla struttura commissariale, diversamente non ho immaginato nulla, sospendo e basta, quindi quasi una rica vista. Certamente un governo, una maggioranza parlamentare, Donato Pennetta, ha il diritto di fare anche di queste scelte, a condizione però, come si diceva, che abbia pronta una soluzione alternativa e che comunque vengano garantite, diciamo, che venga garantita una transizione che non influisce sui lavori. Moralmente, secondo me si può parlare benissimo di danno erariale che il governo commette contro se stesso e contro gli italiani, giuridicamente. Cioè se io voglio andare a denunciare il Ministero perché sta facendo un danno erariale agli italiani, potrei avere accesso? Sicuramente. Cioè le imprese che oggi hanno avuto la sospensione dei lavori e che quindi hanno un'organizzazione in essere ma non possono lavorare e quindi, come Angelo insegna, sopportano dei costi. Questi costi diventano delle riserve nei contratti e un maggiore costo per l'azienda, per la committenza. Dopodiché quel maggiore costo è un danno erariale perché è privo di giustificazione. Perché l'hai sospeso? Perché non l'hai sostituito immediatamente? Sia con una gestione ordinaria che con una gestione commissariale. Perché hai provocato gli italiani? Insomma, sta frittata chi la deve pagare se non chi l'ha provocata. Questo sicuramente. L'altro dato fondamentale è, però dato che si verifica sulla Tav, si verifica sulla Tav, si verifica sull'Ilva, si verifica sulla Lioni Coturini. Che cosa sta succedendo? Cioè è possibile allargare un attimo lo sguardo e dire loro hanno vinto una rivoluzione. Il voto del 4 marzo è stata una rivoluzione nel paese. La rivoluzione è composta da due fasi. Una fase destruenza, che è la più semplice. A zero, brucio, metto a rogo tutto. E questo lo facevano anche i barbari. Poi esiste invece la fase più difficile, che è la fase costruenza di un sistema diverso. Quali sono state le grandi rivoluzioni che hanno costruito poi un sistema diverso? Quella comunista, sovietica, quella francese, quella americana. Ma tenevano dietro pensatori e un grande pensiero è già un sistema in testa. Il dato drammatico di questo movimento è che non c'è il pensiero. Il dato drammatico è che si parte da Rousseau e si arriva alla ghigliottina. Questo è il punto. E quello è il problema. Cioè loro azzerano il commissario, ma non hanno in testa una soluzione alternativa. Pino Rosato, che è qui come manager ex manager del Moscati per parlare di sanità e fa parte della direzione nazionale dei medici ospedalieri. Questa fase e queste vicende che ci toccano dal vivo, insomma, dal tuo osservatorio, dalla tua opinione, come vengono? Beh, sul fatto, io penso che noi riusciamo a farci male da soli. Perché anche sulle cose che potrebbero andare bene e che perlomeno hanno una soluzione come la strada di cui stavamo parlando, poi alla fine invece viene interrotta dal punto di vista di tempisti e anche di costi senza una soluzione alternativa. Se questo procede nel tempo con questo tipo di governo che sta a potere, veramente l'Italia rischia male, rischia molto. C'è anche da dire un'altra cosa, lo dico soprattutto ad Angelo e a Valentina, che insomma questa decisione, oltre a mettere in imbarazzo e in difficoltà i due ministeri, sembra non avere, diciamo così, sembra che non ci sia alle viste una decisione per né quella di eventualmente confermare D'Ambrosio, con il quale io ho parlato ieri, lui non ha nessuna intenzione di essere riconfermato, viste come sono andate le cose, però sta dando tanto di quel lavoro agli uffici legislativi dei due ministeri, delle infrastrutture e dell'economia e ancora non riescono a venirli a capo. Tanto è vero che Dello Buono interrogato, dice ma quando finisce Stolau, quando verrà fuori la sorpresa dall'uovo di Pasqua, degli uffici, non lo so. È una situazione davvero pesante anche questa dal punto di vista... È anche una situazione molto triste, perché se noi perdiamo tempo per poi semplicemente dover ripristinare quello che già c'era, per esempio come è accaduto con l'Ilva, allora evidentemente non si capisce perché bisogna mettere in discussione la continuità lavorativa di maestranze, la capacità di chi fa impresa di portare avanti un progetto per cui mancano solo 7 chilometri senza aver avuto ancora un'idea. Si facessero suggerire qualcosa da qualcun altro, nel senso a questo punto il danno è stato fatto perché rimuovere un commissario senza avere una sostituzione è già un danno e quindi probabilmente la tua sollecitazione andrebbe presa in considerazione e citarli per danno erariale potrebbe essere un'idea, ma almeno si facciano suggerire rapidamente una soluzione che consenta di finire 7 chilometri di strada su cui effettivamente è ridicolo fare un'analisi costi benefici a valle. L'attacco alla Lioni Grotta Minarda, per così dire, che secondo me resta uno sfizio personalissimo del sottosegretario Sibiglia, alla luce e dalla ricostruzione dei fatti, parte e nasce con il fatto che questo commissario ritarda il completamento della Lioni Grotta Minarda che sta da 38 anni in cantiere, non è vero, sono 18 anni, i primi finanziamenti, quando parliamo di unicotaminato, non dobbiamo ripetere all'infinito questa cosa, parliamo dell'anno 2005, quando arrivarono i primi finanziamenti, peraltro pochi spiccioli che divennero più consistenti a cominciare dalle successive annualità. In realtà questo attacco è un altro autogol, perché non è vero, dal 2005 ad oggi la strada è stata sostanzialmente completata, quindi tornerei su questa volontà, diciamo così, appunto distruttiva, che non costruisce alcunché. Dove stiamo andando anche in questa provincia? Perché non è la sola cosa, poi parleremo anche di alto calore. Beh, diciamo che questa provincia sta andando nella direzione che sta andando tutta l'Italia, perché pur di fare qualcosa in collaborazione con il governo centrale, anche i nostri, come dire, esponenti del governo, locali, seguono la stessa cosa, ma senza avere un obiettivo ben preciso. La lione crottaminata è iniziata 18 anni fa, ma io voglio far presente che è durato tutto questo tempo. Voi come parlamentari l'avete molto seguita la cosa. Certamente, ma ci stanno ancora dei pezzi che vanno finanziati, quindi non è che non è finita perché è colpa del commissario, è tutta una situazione complessa, che è un'opera anche complessa, con fondi anche importanti, perché parliamo di centenari di milioni, dove si è avuto fatica per ricoperare e per ripetere i fondi e poi i tempi, la burocrazia è andata avanti per steppe. E si è andata avanti per steppe, di cui un pezzo, un ultimo pezzo, ancora non è finanziato, se non vado errato, che è la quota che deve essere finanziata dalla regione. Fuono fondi deliberati dal Cipe, sono stati deliberati al suo tempo dal Cipe, non c'è ancora la disponibilità economica dell'altra parte. Quindi il fatto che il commissario, che costa 4 centesimi all'anno, perché io poi vorrei capire una cosa, io rimuovo il commissario, parlando, no, perché noi dobbiamo anche fare qua un esame, parola costi benefici, dobbiamo darci il significato giusto, perché se io tolgo il commissario, che costa 100 mila euro all'anno, mi pare di capire, per mettere qualcosa che ne costa 30, ho già fallito perché su un'opera così grande sto parlando del nulla, ma se poi non ho nemmeno l'idea di quanto costerebbe una gestione diversa, probabilmente costa 300 mila euro, quindi questi costi benefici di che stiamo a parlare? Il punto è proprio questo, dove stiamo andando? Stiamo andando alla deriva, così come si sta andando un po'. In realtà bisogna anche dire che nel frattempo questa struttura commissariale ha messo in piedi una serie di grandi competenze capaci di rispondere proprio a tamburo, si dice in gergo giornalistico, cioè di far fronte quotidianamente ai problemi che è un'opera anche così consistente, per di più con tutti i lacci e laccioli italiani intorno ad un'opera pubblica e si dimentica forse Donato Pennetta che la struttura commissariale non funzionava e non ha funzionato perché riceveva i finanziamenti, progettava, no tutto il contrario, gli veniva preannunciato il finanziamento, ti diamo 140 milioni, la struttura progetta, una volta fatto il progetto arrivano i soldi, questo ha impedito sprechi, perdite di tempo, efficienza nella continuità. Quindi rispetto a certe opere pubbliche, la struttura commissariale che tu non ami, mi pare di aver capito, è necessario, a Napoli e Bari io sono convinto, senza struttura, senza il commissario, stavamo ancora forse a caro amico secondo me, invece siamo a più della metà dell'opera. I paesi dell'est che arrivano in Europa vent'anni fa hanno adottato questi modelli, su tutte quante le grandi opere dalle metropolitane e cose via dicendo, tengo un unico soggetto, strutture commissariali, ma lì c'è una motivazione perché non c'è struttura pubblica. Ora, questi che si presentano al paese come quelli che vogliono avere il pubblico in mano, devi avere una qualità nella tua struttura, cioè io sono d'accordo nel far tornare all'ordinario, ma hai la qualità e le competenze nella struttura originaria? La risposta è no, perché già hanno detto che la burocrazia italiana è tra le peggiori dell'Europa e tra le peggiori del mondo. Ma se lei ha seguito Cassese, che mi sembra l'unico che fa una vera opposizione a questo governo, che cosa gli dice? Lui che ha teorizzato la pubblicizzazione su tante cose, gli dice guarda, fate attenzione, perché quello che erano le grandi competenze di ANAS, di Ministero delle Infrastrutture, Ex Trasporti, Lavori Pubblici, non ci sono più. Quindi quando tu internalizzi, internalizzi a favore di quali competenze? Cioè questo è il punto vero che il paese si deve porre. Dice ad Autostrade di revocare, bene, ma ANAS da vent'anni non tiene più le competenze con cui gestiva in precedenza. Quindi quando tu pubblicizzi, quali sono le competenze a cui affidi queste cose delicatissime? Quindi io sono contro le strutture commissariali, perché le strutture commissariali, soprattutto quelle che durano vent'anni, sono inconcepibili, ma soprattutto è una confessione che la struttura pubblica dello Stato non c'è più. Beh, la struttura pubblica dello Stato non c'è più e se passano vent'anni non sempre. La responsabilità è delle strutture commissariali, perché o non arrivano finanziamenti o le amministrazioni non... sappiamo come tante incompi... anche nella nostra città, lavori infiniti. Perché? Perché c'è questo difetto di fondo. Parliamo un attimo però di sanità, perché almeno qui c'è una buona notizia. Ieri sono stati firmati i decreti dal Presidente della Regione per l'assunzione di 7.600 dipendenti, per le ASL e per le aziende ospedalieri. Dentro questo numero ci stanno anche 1.500 precari storici e però insomma stiamo parlando di 5.509 assunzioni. Negli ultimi dieci anni la sanità campana ha perso 13.000 addetti. È una buona notizia? Assolutamente sì. Bisogna vedere se da notizia si passano i fatti. Beh, i fatti dei decreti sono filmati, ma si fa bene come dire ad essere... ma insomma... È uno dei pochi motivi per cui io spero che non ci sia il commissariamento in Campania, per rendere operativo ciò che è stato detto, perché molto spesso siamo abituati ad avere grossi annunci e poche realizzazioni. Rosato, quando ha lasciato il Moscati, la direttore generale, aveva 1.400 unità in meno rispetto alla pianta organica. Avevamo 1.000... nel 2005 avevamo 1.713 addetti, quando ho lasciato eravamo 1.396, quindi oltre 400 unità. Oltre 400, ho detto 1.400, ho esagerato evidentemente, nel senso che ho sbagliato, oltre 400. Questo che determina nel funzionamento di un ospedale? Beh, determina una... Perché si può fare ogni giorno le nozze con i fichi secchi rispetto a prestazioni che... Determina la necessità di poter creare, nell'ambito della struttura, una grossa condivisione di obiettivi. Bisogna fare una squadra dove tutti si sacrificano per portare avanti un obiettivo reale, che per noi è stata la realizzazione della città ospedaliera. Basteranno i 170 nuovi assunti previsti dal piano che il Moscati ha presentato alla regione? E qua bisogna fare una delucidazione. Loro hanno... La regione ha fatto un decreto, il decreto 67, che ha preso come punto di riferimento dei parametri della vecchia donata catena dell'88. Si è la divisione delle strutture in alta complessità, media complessità e bassa complessità e ogni complessità ha messo un parametro per arrivare alla quantificazione del fabbisogno per strutture, per unità operativa. Purtroppo questo parametro non è particolarmente utile dal punto di vista strutturale. Perché? Perché, diciamo, privilegia le strutture di alte specialità, però fondamentalmente penalizza notevolmente le strutture di media e bassa specialità. Di conseguenza la struttura ha grosse difficoltà poi di rispondere ai bisogni della gente. Bisognava, secondo me, creare un discorso un po' diverso. Dividere le strutture in relazione ai volumi di attività, alla complessità, alla presenza o meno nella rete dell'emergenza, alla risposta relativa alla complementarietà con il territorio. Allora il discorso veniva più completo. Servono più medici, soprattutto per quanto riguarda la medicina d'urgenza e i pronto soccorso, o servono più infermieri? Perché noi abbiamo dei dati, cioè mediamente un infermiere per ogni 11 pazienti. Questa è la media nazionale accettabile. Nelle regioni che stanno meglio un infermiere per 8-9 pazienti. Al Moscati un infermiere deve accudire 17-18 pazienti. Allora, questo perché c'è stato il blocco del turnover che è durato anche troppo, secondo me. In ogni caso, diciamo, servono sia i medici e sia gli infermieri, ma quello che serve soprattutto è l'organizzazione interna, per fare in modo che gli infermieri possano fare tante cose che attualmente fanno i medici e i medici possono dedicarsi maggiormente alla fase del colloquio con l'ammalato, quindi automaticamente a quello che noi chiamiamo umanizzazione della medicina. Perché poi dalla scarsa capacità di comunicazione con gli ammalati discenderà quello che noi chiamiamo il rischio clinico, fondamentalmente la difficoltà che noi abbiamo di poter creare questa comunione terapeutica, questa alleanza terapeutica con l'ammalato e quindi automaticamente cominciano le denunce. Lo sblocco del turnover risolverà alcuni problemi, non risolverà il problema fino in fondo delle liste di attesa, dell'affollamento, fin quando la medicina territoriale non prenderà cuopo di cui poi parleremo, perché per esempio per stare alla continuità assistenziale che è rappresentata dalle ASL abbiamo seri problemi e invece quando invece è da lì che bisognerebbe posso fare un esempio? Nel 2018 noi abbiamo tre decreti relativi alla riorganizzazione della rete ospedaliera modificate nello stesso anno, quindi febbraio 2018 il decreto 8, il decreto 78 del novembre 2018 e l'ultimo il 28 dicembre 2018. Per quanto riguarda invece la territorialità abbiamo avuto un solo decreto, però si parla sempre solo dell'ospedale. Solo dell'ospedale, torneremo però, prego, telegrafico perché dobbiamo andare in pausa, poi dobbiamo parlare di alto calore e dobbiamo ritornare su Lioni Grottaminarda. La pubblica amministrazione, non crediamo però che l'assunzione di nuove 10 persone risolva un problema di funzionalità perché molto dipende come le selezioni, che qualità selezioni, in che modello organizzativo e le progressioni di carriera come avverranno in futuro per competenza, per impegno, per senità, per professionalità. Cioè questo contesto, l'inserimento di nuove unità ha un valore, ma la cosa fondamentale è in quale modello organizzativo lo inserisci e come premi le professionalità nel corso della vita professionale. Ci fermiamo per una breve pausa, torniamo tra poco con i nostri ospiti per continuare a parlare di sanità, di Lioni Grottaminarda, anche di alto calore e in coda faremo una puntatina sulle vicende amministrative di Avellino e le prossime elezioni del mese di maggio. Lo faremo con Valentina Paris e Angelo D'Agostino, tra poco. Ben ritrovati, studio sera con Donato Pennetta, Valentina Paris, Angelo D'Agostino e Pino Rosato. Andiamo avanti con la nostra discussione di stasera, ripartendo da alto calore. sapete che cosa è accaduto, aumento di capitale, i sindaci non hanno soldi, come si fa, come non si fa, interviene la rappresentanza parlamentare irpina, quella del Movimento 5 Stelle e assicura il governo a progettualità importanti per alto calore, cosa ribadita ieri l'altro nell'incontro che si è svolto alla provincia. L'unica cosa buona è che tutti gli interlocutori hanno detto siamo favorevoli e ci batteremo per l'acqua pubblica. Il problema è di capire come si mantiene l'acqua pubblica, come si mantiene il governo, la progettualità del governo per il momento sembra essere quella di consigliare il concordato preventivo in continuità. Io partirei da Donato Pennetta perché da qui, magari con poca scienza, ma con molta coscienza, abbiamo detto che, insomma, in tanto alto calore non c'era bisogno che il governo gli dicesse fa il concordato preventivo, volendo avrebbe potuto farlo anche da sé, ma il fatto è che forse non può ottenerlo perché è concessionario provvisorio e quindi il giudice dice ma questo come mi fa a pagare se domani mattina gli tolgono la concessione? E poi dovrebbe mettere sul tavolo dello stesso giudice almeno 30 milioni dei 140 di deficit con i quali cominciare a pagare i creditori privilegiati. C'è l'altro calore, avesse 30 milioni da mettere sul tavolo del giudice li terrebbe sul proprio tavolo per far funzionare. È difficile, è molto difficile, le condizioni e i presupposti sono stabiliti dalla norma, quindi se ci sono quei presupposti, non mi pare che ci sia, non mi pare che ci sia, c'è una facoltà indipendentemente dal governo. Ma anche qui ritorniamo sempre a bomba, ma l'alto calore è un caso isolato nel sud oppure è uno purtroppo dei tanti casi di gestione pubblica fallimentare nel sud? Io una volta le ho dato un dato, sulle aziende cosiddette pubbliche, se prendi le aziende pubbliche italiane complessivamente sono collocate in una fascia medio-bassa in Europa, in una media. Se dalle aziende pubbliche italiane togli le aziende di Roma, di Napoli e della Campania e della Sicilia, questo dato nazionale schizza in alto. Quindi significa che questa gestione pubblica del Lazio, della Campania e della Sicilia, degli ultimi 20-30 anni, è stato fallimentare, come modello è stato fallimentare. Adesso i 5 Stelle hanno in testa un modello diverso e io ho dei dubbi che abbiano... C'è un disegno di legge, mi pare, di una parlamentare, Daga, del Movimento 5 Stelle, che parte dal principio, peraltro già nei fatti, secondo il quale la gestione delle risorse idriche deve essere sempre interamente pubblica, cosa che nei fatti lo è che l'87% di chi gestisce le risorse idriche in Italia è già un soggetto pubblico. Questo è il punto. Poi ci sono i problemi che... Cioè, o tu tieni un modello alternativo, rivoluzionare alternativo a quello, oppure tu puoi anche ripianare il debito di oggi, ma fra un anno il punto è a capo. Il punto è a capo. C'è anche da dire che il concordato preventivo in continuità, ove è accordato, praticamente dovendo scorrere la lista dei creditori a partire da quelli privilegiati, i comuni soci di alto calore, che di quei 140 milioni di deficit rappresentano i 40 milioni, cioè i comuni devono avere 40 milioni di deficit, non prenderebbero un euro, non prenderebbero un euro. Ma a parte questo, Valentina, si dice che il governo, è stato detto anche l'altro ieri, il governo ha progettualità a condizione di una forte discontinuità. La discontinuità quale sarebbe? Gli ultimi cinque anni bisogna mettere conti e dati alla mano che De Stefano ieri, oggi, Ciarcia, stanno su una strada di profondo rinnovamento e risanamento. Quale discontinuità? Cioè, qual è la discontinuità per vedere la progettualità del governo su alto calore che non sia il concordato preventivo, naturalmente? Questo andrebbe chiesto al governo e io mi auguro non sia lo stesso atteggiamento di discontinuità messo in campo, per esempio, con l'eliminazione di un commissario senza avere un piano alternativo. Quello che io invece mi auguro è che, anche per alto calore, si possa stare dentro ad un piano di revisione delle società pubbliche regionali, perché, stando proprio a quello che dicevamo prima, cioè che c'è un tema che riguarda alcune regioni d'Italia, dove sui servizi pubblici noi non abbiamo avuto modelli virtuosi. In Irpinia, ma potremmo dire in Campania, la questione dell'acqua e anche la questione dell'alto calore, se viene affrontata solo dentro la nostra struttura organizzativa, senza mai far riferimento al fatto che noi forniamo acqua alla città di Napoli e il sindaco De Magistris ha la possibilità di dire che è lui il grande fautore e difensore dell'acqua pubblica, ma effettivamente non c'è. Nessun ristoro, per esempio, per la provincia di Avellino rispetto a un bene comune che è la città di Napoli. Che noi custodiamo e... Noi custodiamo, offriamo, ma su cui non abbiamo nessun ritorno. E custodire comprende dei costi che non ci vengono... Assolutamente riconosciuti. E poi c'è il problema... Non parliamo della questione della Puglia, che pure appunto è antico. Certo, sarebbe il caso che il governo invitasse al tavolo la regione, che pure ha riscritto leggi regionali sulla questione dei rifiuti e sulla questione dell'acqua e si individuasse insieme una soluzione per ragionare di come i servizi pubblici ai cittadini devono essere erogati in questa nostra regione. Angelo, alto calore, insomma un bubone che ci portiamo a presso da tanti anni. Negli ultimi anni la situazione ha assunto, diciamo così, caratteristiche gestionali molto più confacenti, molto più moderne, molto più trasparenti, molto più chiare, senza sprechi, senza arricchimenti politici. Sappiamo che l'alto calore è stato per molti anni anche uno scrigno elettorale per molti. Come se ne esce? E' evidente che, come diceva prima Donato, un'azienda pubblica, e non è l'unica, credo che sia più di una, gestita così, crea delle difficoltà e ci sono delle difficoltà anche nelle altre aziende. Evidente, dicevo, che l'alto calore ha i suoi problemi, ormai si sa da un po' di tempo, probabilmente va un attimo rivista la struttura, per cui bisogna un attimo capire quando si parla di discontinuità la cosa significa, perché lasciando un servizio pubblico con lo stesso sistema io non credo che cambi chissà che cosa. Ed è evidente che un'azienda come l'alto calore, io ci tengo a precisare questo perché diciamo sono un po' addentro a quelli che sono i problemi, che non paga la materia prima e eroca a pagamento un servizio pubblico e genera una, come dire, un debito di questa portata, è evidente, è di grande evidenza che c'è un problema. è inutile che stiamo qui, oppure modificare piccole cose, andare avanti e creare magari per tre anni lo stesso problema. C'è un problema che secondo me va visto un poco più, quindi me ne guarderei bene, sì, pubblica sì, però credo che va un attimo realizzato. Pubblica sì ed è una opinione più che rispettabile che, per esempio, io condivido il problema di capire se poi questa gestione pubblica in che termini dà un servizio efficiente e quanto mi fa risparmiare sulla bolletta. Ma qui non parliamo nemmeno del servizio, perché sul servizio ci potrebbe, si sarebbe tanto da dire, non è tanto come viene erogato il servizio, è che tu non puoi generare debiti avendo una materia prima che non paghi e avendo un'erogazione a pagamento. Ragazzi, questo per me è un po' inconcebibile, sarà una mia deformazione professionale, però io faccio verità a pensare al contrario. Cioè se un'impresa fa dei lavori e altri gli pagano i dipendenti e non riesce a fare il lavoro, nonostante… E quindi mi sembra un po' anomalo. Allora, va un attimo che hai visto, quindi qua credo che andrebbe… Rosato, sull'acqua. No, sull'acqua, voglio fare un paragone tra acqua e sanità, in questo caso alto calore e il debito che ha trovato Bassolino nel 2004 sulla sanità. Beh, ne fu necessità che ci fosse una riorganizzazione e una famigerata delibera il 23 dicembre 2005, dove questa delibera portava l'obbligo delle aziende ospedaliere di rievo nazionale e delle aziende ASL a una riduzione del 16% delle spese del personale, al 10% degli investimenti. Cioè si fanno delle scelte anche gravose per poter risenare un bilancio. Scelte regionali che poi naturalmente devono essere, diciamo, devono portare a una razionalizzazione della spesa, non a un razionamento della spesa stessa. Questo tipo di discorso che fu fatto prima con un affiancamento alla regione Campania e con altre regioni e poi con il commissariamento, nel bene o nel male, ha portato a un recupero economico, perché noi siamo usciti dal 2012-2013, siamo usciti dal pieno di rientro, dal punto di vista economico, pagando un prezzo importante che era quello relativo alle risposte sanitarie che abbiamo dato. Però oggi noi possiamo metterci al tavolo Stato-Regione con la testa alta e poter pretendere effettivamente il Fondo Sanitario Nazionale diviso con obiettivi comuni. Il suggerimento è quello di seguire la sorta di... Non ho detto che è un suggerimento, è una modalità utilizzata in regione Campania... Per poter, e non solo, è stato utilizzato anche in Piemonte, che si trovano nelle stesse regione Campania con il Molise, per poter uscire da questo stagno. Commissariamento, Donato Pennetta, e chi dovrebbe farlo? Ma non risolve il problema? Cioè, io sono a favore dei commissari se la fase è transeunte, cioè sei mesi per delle cose estremamente delicate, dolorose. Un pronto soccorso, diciamo. Come il commissario ad Avellino. Non è che il commissario ad Avellino sta dieci anni, il commissario ad Avellino sta sei mesi, dopodiché... C'è chi magari si può pure augurare, vista la temperia, se sta un altro po' di tempo non sarebbe poi tanto dannosa. Ora, la soluzione che tu dai oggi deve tenere in testa, deve essere la soluzione di un modello, cosa che io non vedo. Invece oggi tu corri, sei alla rincorsa di chi ti presta una cosa di soldi. Per fare che cosa? Per accumulare debiti dopodomani? Sei putte a capo. Perché devi risolvere il problema delle condotte, devi risolvere il problema dell'elettricità, devi risolvere il problema dell'amorosità. Cioè ci sono una serie di problemi, cioè di modello. E poi, fino in fondo... Allora, il Paese ha bisogno di una riforma strutturale seria. Era il problema di Berlusconi, era il problema di Prodi, il problema di Renzo e oggi è il problema dei Cinque Stelle e di Salvini. Si riflette su questa questione, cioè il problema è trovare 30 milioni o il problema è riflettere su un modello completamente diverso. Probabilmente anche pubblico, lei lo sa, io non sono per il pubblico, sono per un pubblico che controlla, pianifica e indirizza. E una gestione privata. Perché al cittadino? Il discorso sull'acqua era lo stesso discorso che veniva fatto con la Stet e Cottelle come nel 95. La comunicazione in mano ai privati. A distanza di 20 anni paghiamo un settantesimo di quanto pagavamo a Stet con servizi 170 volte più veloci. C'è qualcuno in Italia che si scandalizza oggi che le rete telefoniche sono in mano ai privati? Nessuno. Nessuno. Perché? Perché il cittadino chiede qualità del servizio ed economicità del servizio. Con un pubblico che controlla, pianifica, indirizza e controlla. Questa è la cosa utile. Quando loro pongono il problema di autostrade, il problema c'è, è vero, è vero. Perché il vero problema è che non c'è nessun controllo in Italia. In Italia non c'è un controllo su un comune, non c'è un controllo sulla regione, non c'è un controllo sullo Stato, non c'è un controllo su nulla. Quindi gli hanno dato la concessione ma nessuno ha controllato. In Italia abbiamo pure il problema di chi controlla i controllori, perché anche questo è un aspetto non trascurabile. E la mancanza di controllo a che cosa è dovuta? A una contiguità tra il soggetto gestore e il soggetto politico. Non ti controllo fino in fondo e tu mi fai le cortesie. Questo è il problema. Il sistema americano che ha affrontato questo problema due secoli prima, sa che cosa dice? Tu lo puoi affidare a tuo fratello, ma poi la gestione è affidata a un soggetto terzo che lo scarnifica e dopo sei mesi ti dico se va bene o non va bene. Infatti il vero potere in America sta in chi controlla, non tanto in chi gestisce, perché quello che gestisce gli vengono fatte delle pulci paurose da questo punto di vista. Il controllo in Italia non esiste. Il problema di autostrade non è la concessione data a Gavio autostrade, ma come controlli gli investimenti che sono stati effettuati. Facciamo ancora una puntata prima di andare a chiudere su altri argomenti sulla sanità con Pino Rosato, perché per esempio dicevamo, preannunciavamo, la continuità assistenziale, la medicina territoriale, medicina territoriale, anche qui Rosato mi correggerà, insomma attualmente sono due i momenti dai quali forse ripartire, i distretti sanitari e le guardie mediche. Insomma i distretti sanitari a cominciare da me li scambio come una cosa burocratica, non come una cosa dove mi vado a curare per qualche cosa. Beh intanto le guardie mediche, molti dei medici, una ventina di medici hanno fatto due distinti ricorsi al TAR, perché lì li stanno smantellando, perché 20 unità sono state perse, potrebbero diventare 60 dei prossimi mesi, capita, lo abbiamo anche ricordato da qui, che un medico di una guardia medica viene chiamato e si deve spostare per 30 chilometri di notte, perché lì si comincia alle 20 di sera e si finisce alle 8 di mattina. E anche questo, mentre parliamo di assunzioni, la coperta torna a diventare sempre troppo corta, perché metti a una parte e poi ti accorgi che stai perdendo altro personale, per di più, su una frontiera decisiva per un ottimo funzionamento degli ospedali, per esempio. che ci sia un piano sanitario regionale che deve contemplare sia la rete ospedale sia la rete territoriale, perché è nella risposta unitaria che ha il soddisfacimento del bisogno del cittadino. Il distritto è un fulcro importante territoriale così come lo è l'ospedale, soltanto che gestisce una medicina diversa, una medicina territoriale. Quindi il terreno 70 poneva determinate strutture, le aggregazioni funzionali territoriali, le unità complesse di cure primarie, sono dei momenti strutturali omogenei e formati da più professionisti che devono essere in grado di rispondere alla diospedalizzazione. Tra l'altro accade, lo dico ai politici, che per tamponare questa situazione nelle 42 guardie mediche che abbiamo sul territorio provinciale si affidano degli incarichi annuali, 82 per l'esattezza, gli ultimi del 2018 e si spendono 3 milioni, per cui uno si dice perché questi incarichi a tempo determinato non è possibile trasformarli a tempo indeterminato, peraltro con una spesa così cospicua, Angio. Certo, anche qui parlando di costi e benefici, ecco ci sta tutto, andrebbe un attimo analizzato perché non vanno trasformati e questa è una delle questioni che secondo me va affrontata, va vista. Noi abbiamo utilizzato per molto tempo, ahimè, in maniera malsana la precarizzazione tanto in ambito sanitario quanto dentro tutti i settori della pubblica amministrazione perché avevamo problemi di ragioneria generale dello Stato che imponevano di stare entro certi vincoli di bilancio. Una delle cose drammatiche che accade nell'ultima legge di bilancio di questo governo è che dopo dieci anni di blocco delle assunzioni che appunto si chiudevano nel 2018, questa legge di bilancio impone agli enti locali e anche al comparto sanità, se non vado errato, un ulteriore blocco di assunzioni fino a novembre del 2019, per cui abbiamo aspettato dieci anni per poter assumere e abbiamo precarizzato. Quando eravamo finalmente pronti costruiamo una legge di bilancio che come prima operazione ci blocca di nuovo le assunzioni per altri dieci mesi. Potrebbe essere una soluzione, un tamponamento per quanto riguarda la continuità assistenziale la richiesta di estendere e ampliare le zone carenti perché un medico ogni 1500 abitanti per le zone disagiate, mentre per le altre zone c'è un medico previsto per ogni 5000 abitanti. Questo darebbe un po' di respiro almeno una settantina o un centinaio di nuovi medici. Può essere sicuramente una soluzione. Il discorso fondamentale è di riuscire a mettere sul territorio una forma di organizzazione che ci permette di dare una risposta più possibile utile. Se riusciamo a realizzare delle aggregazioni funzionali territoriali che portano 5, 6, 10 medici di medicina generale ad aggregarsi e che possono rispondere alle esigenze del cittadino in H12, quindi dalle 8 la mattina alle 8 la sera, facendo dei turni, ridurremo sicuramente l'accesso in prodotto soccorso. Se riuscissimo a fare delle unità operative complesse di cure primarie, dove vi accedono i medici di medicina generale, gli specialisti ambulatoriali, i medici del servizio delle ASL, naturalmente avremo la possibilità di avere una deospedalizzazione perché faremo la missione protetta. E' vera. Perché il paziente che non può ancora andare a casa, però che non ha necessità di stare in ospedale, potrebbe avere una risposta sul territorio. E' questa l'integrazione funzionale tra due momenti a cui dovrebbe rispondere un piano sanitario regionale. Per cui si sa perché si arrivi in ospedale e come si esce dall'ospedale e come il territorio prende in carico il paziente ospedalizzato per renderlo naturalmente autonomo. E' vera. E se è vera perché, la cosa che dice il Presidente De Luca, facciamo i concorsi per medici di pronto soccorso che praticamente non riusciamo a portare a termine perché non non partecipano. Allora, c'è un certo numero di… pur essendoci una grossa disoccupazione ancora medica, non si partecipa perché sono posti a rischio. Perché il pronto soccorso è posto in posto a rischio sia per l'ingolumità, così come è un posto a rischio, la guardia medica. Assolutamente. Quando tu dicevi che una ragazza esce con la macchina sua da sola per fare 30 chilometri per andare a fare una visita domiciliare e non sa dove arriva, è una persona a rischio di qualsiasi cosa. Quindi non ci va, non si va in pronto soccorso. Il rischio connesso anche a responsabilità assicurative e quant'altro? Allora, abbiamo la responsabilità per il pronto soccorso, è la riduzione del numero del personale, la riduzione del numero degli infermieri, la scarsa sicurezza dell'accesso. Una volta quando io ho cominciato col pronto soccorso c'era la polizia, c'era l'unità di... Ma mi pare ci sia ancora il posto di polizia. No, c'è la Cosmopol con cui ha fatto la convenzione l'azienda ospedaliera, armata, che dovrebbe fungere da sorveglianza. Ma non è sempre così. La deterrenza non è fatta soltanto da un momento di sicurezza con la forza armata, è fatta soprattutto col tempo che il medico ha la possibilità di dedicare all'ammalato. Quindi è vera questa cosa, Vite Luca, quantomeno che sottolineava la difficoltà ad avere medici ad assumere il pronto soccorso. Se non cambia l'organizzazione, come diceva Donato, poi mette 100 persone, deve cambiare l'organizzazione del pronto soccorso. Un accesso ben organizzato, la possibilità che il medico abbia la possibilità di parlare con l'ammalato, di fare un percorso diagnostico serio per vedere se il paziente deve essere ricoverato, può stare in osservazione breve o può andare a casa. Se questo tempo non c'è e noi teniamo 40 posti letto al Cardarelli di pronto soccorso dove stanno sulle varelle, addirittura sulle sedie, non c'è il numero necessario per poter dare una sicurezza né al paziente né al medico. Donato voleva intervenire. Questo dato che lei dava, cioè delle guardie medie che diminuiscono, che cosa ha fatto sì? che le zone periferiche di questa provincia, ma questa è in tutto il sud, hanno avvertito molto la stretta sui fondi della sanità, perché lo Stato ha detto che la pubblica amministrazione e la sanità in modo particolare, che è una delle voci di spese principali, per me è un costo. Questo è stato un errore enorme e quindi io devo ridurre. Che cosa si è verificato? Ovviamente hanno ridotto soprattutto le spese degli ospedali e voi considerate che in Altirpini, a quei due plessi ospedalieri, io vengo da una famiglia di medici di bar, sono stati una conquista sociale spaventosa degli anni Ottanta. Cioè papà, io mi ricordo quando facevo le scuole elementari, partiva con l'ammalato e andava all'ospedale di Avellino, cioè tipo i viaggi di Michele Strogoff, cioè tornava dopo due giorni. Quindi tenere un ospedale lì è stata una grande conquista. Io non mi scandalizzo che per questioni economiche e di costi poi venga chiuso. Il problema però è tu che cosa devi garantire? Non devi garantire che il cittadino vada in ospedale, ma il diritto alla salute. Quindi se tu non lo puoi più rendere con l'ospedale, devi investire sulla politica del territorio, che è quello che ha fatto per esempio l'Emilia Romagna. Qui invece noi abbiamo avuto una contrazione sia dei costi sulla politica del territorio e sia dei costi del territorio. Cioè non ne abbiamo azzeccata una. E quindi le periferie risentono di questo in maniera spaventosa. Un suggerimento però non è solo una questione di personale. Le democrazie federali hanno due criteri di finanziamento, mentre noi in Italia siamo federali ma ne abbiamo uno solo. Tutte le aggregazioni ad alta densità urbana hanno un criterio. Invece tutto ciò che è zona montana, per esempio la Svizzera, ha un criterio di finanziamento diverso, perché avere gli stessi indici ad Andretta e Alvomero diventa difficile. Quindi questa diversificazione è necessaria. Bene, il nostro tempo è quasi finito. L'ultima puntatina la farei però, la dedicherei con Valentina Paris e Angelo La Corsi, a divisione di Avellino. Che succede alla prossima campagna elettorale, molti movimenti civici si stanno attrezzando. Non è detto che siano movimenti necessariamente farlocchi, ci sono anche movimenti animati da giovani che vengono già da esperienze consumate. Insomma, un civismo che si affida a dei valori, che non nasce così per mistificare, per intrufolarsi, per nascondersi o per occultarsi. Insomma, il Partito Democratico, Valentina, insomma, qualcuno direbbe con affetto, siete un guaio passato. Con affetto, con affetto. Siamo un guaio passato, ma alla fine comunque devono arrivare tutti da noi. Nel senso che nulla si muove se il PD non assume una posizione nel bene e nel male. Noi, ovviamente, abbiamo patito molto. Su questa cosa della Lioni Grotta, ci sono mossi dei sindaci, anche del PD, ma poi per esempio Zitti e Mosca. Beh, in questo momento in realtà Zitti e Mosca no, perché proprio gli amministratori, a partire, se non ricordo male, dal sindaco di Vila Maina, da Stefania Riscire. Iniziative politiche, in questo momento, non solo si fa fatica in questa provincia, ma si fa fatica nel Paese, perché siamo in una fase in cui c'è ancora forte il Destroens. Secondo me, sulla città di Avellino, elaborato oramai il lutto delle ultime amministrative, noi abbiamo il dovere ovviamente di dire cosa deve essere questa città domani e il Partito Democratico si gioca una partita di credibilità sostanzialmente su questo. Noi abbiamo assistito, anche nei mesi di amministrazione Ciampi, di fatto alla mancanza di visione della città anche da parte loro. Il Partito Democratico e un'alleanza di centrosinistra che aveva avuto un risultato importante con le sue liste, ha dato la possibilità ad un'amministrazione di insediarsi, però evidentemente se anche lì, per lo sfizio di qualcuno, l'unico obiettivo era dimostrare che il PD aveva fallito e che quindi si sarebbe dimostrato poi il dissesto e su questo poi si è mandata la parte distruttiva tutta la situazione. Allora è chiaro che anche il PD si ritira in buon ordine e dice evidentemente nemmeno voi ce l'avete l'alternativa, noi proviamo a riorganizzarci. È chiaro che io auspico la capacità del centrosinistra di rimettere in piedi un'idea di città forte che guardi avanti e che non rimanga legata ovviamente alle nostalgie del passato. Angelo, la domanda ciclica, che farà Angelo D'Agostino? L'imprenditore e anche l'editore di Telenostro, di Prima Tio, tante cose. Non manca sicuramente che fare. Noi consigliamo sempre caldamente di fare la politica, di esporsi eccetera, ma di soprattutto di fare la politica con le sue imprese, nel senso di quella la mission principale, però l'ispirazione e l'aspirazione a dare un contributo alla cosa pubblica resta intatto. Che faranno anche le prossime elezioni? Sicuramente sì, dare un contributo è la cosa che ci sta molto al cuore, l'abbiamo già dato in passato, continuiamo sulla nostra linea a darlo. Certo ci spieghiamo che ci sia, come diceva prima Valentina, che si immagini chi vuole intraprendere, incarnare questo ruolo di sindaco, immagini un modello di città, immagini qualcosa. Io credo che le prossime elezioni vanno viste proprio in questa ottica. Secondo me deve essere meno politica e più fattiva, perché questa amministrazione, quella Ciampi, ecco Valentina dice prima abbiamo elaborato il lutto di Ciampi delle scorse elezioni, cioè noi dobbiamo fare tutti quanti una sorte di mia colpa, no? Perché poi si arriva a tanto. Quindi dobbiamo immaginare che secondo me ci vuole un po' più amare, un po' più questa terra. Partire insomma da una disponibilità che venga prima del proprio conticino personale, poi tutto sommato. Il sindaco è anche una missione, per cui ci vuole davvero chi decide di dedicarsi. Fare il sindaco di una città, della città poi dove risiede, è veramente una missione, perché o la sposi così oppure non si va da nessuna parte. Mi auspico che sia un sindaco poco politico e più fattivo. Quando si avvicinano le elezioni tra le varie cose, non lo chiedo a Donato Pennetta che non ne vuole più sapere, se non ha determinate impossibili condizioni da avverarsi, ma si riprovo. Cioè Pino Rosato che fa? Pino Rosato che fa? Perché lo sai ad ogni elezione, no? E' ogni elezione. Proprio questo insegna qualche cosa, è una telenovela che viene riproposta così, senza costrutto, senza grande volontà. E' ancora troppo presto. E' troppo presto, c'è ancora parecchio filo da tessere, io davvero vi ringrazio. Pino al 26 maggio c'è tempo, quindi il sindaco ha scelto l'ultima settimana, gli ultimi dieci giorni, giusto Valentino? Io spero di no, almeno questa volta spero di no. Beh no, altrimenti le cose si potrebbero ancora di più complicare. Ma al di là delle battute credo che la città abbia veramente bisogno di qualcuno che sposi la causa e la porta avanti. E quindi col contributo di tutti, il mio non mancherà sicuro, come ho detto sempre, quindi ci sarà. Bene, bene. Io vi ringrazio davvero molto per la conversazione, il confronto, il dibattito molto interessante, che grazie a voi abbiamo proposto ai nostri telespettatori e devo anche dirvi che in genere sono quattro i nostri ospiti, se li possiamo inquadrare. Stasera siamo in cinque però, tutto sommato, perché c'è un esordio, diciamo così, che riguarda l'attesa dolce, l'attesa di Valentina Pari, speriamo di non aver infastidito o annoiato il... Devo dire è stata tranquilla, per cui immagino sia stata una conversazione piacevole. Anche questo, davvero tanti auguri in bocca al lupo. Grazie a Donato Pelletta, a Valentina Pari, Sangelo D'Agostino, Pino Rosato. A questa puntata hanno lavorato con me Andrea Chiomiento in studio, Francesco Rinaldi per la documentazione e la copertina in regia, Manuele Angheloni. Vi lascio al replay della copertina e vi do appuntamento per la chiusura dalla settimana di studio sera a domani, sempre su Prima TV, sempre alle 21.30. Arrivederci e buon proseguimento di serata. Il governo ha annunciato la nomina di Lino Banfi, il mitico Ronzo Canà, nella Commissione Italiana per l'UNESCO, una nomina che non mi fa venire la puzza al naso, meglio Banfi che Umberto Smaila, prenotato da Salvini per un prossimo incarico. Banfi come attore ha saputo entrare nell'immaginario collettivo degli italiani pur senza essere Lorenzo Livier. Semmai ha detto una cosa che poteva risparmiarsi o che avrebbe potuto dire in altro modo, evitando di far proprio l'antico pregiudizio nei confronti di chi sa leggere e scrivere, quando, presentato da Di Maio, ha detto in mezzo a tanti plurilaureati porterò un sorriso. I sorrisi fanno sempre bene, ma anche i professori frequentandoli si impara e quel luogo si chiama scuola. In qualche modo Banfi, con un certo evitabile sussiego, ha voluto fare omaggio alla cretinocrazia molto di moda in questo periodo. Il sottosegretario Carlo Sibilia, che di tempo deve averne, ha promosso sul suo profilo Facebook un sondaggio che prende spunto proprio da Banfi Canà. Ha chiesto chi scegliete? Tra Banfi all'UNESCO, nell'Italia con il reddito di cittadinanza e Renzi, presidente del Consiglio, hanno risposto quasi 47.000 persone, che si sono divise in quote dell'87 e del 13%. Tra Banfi, l'Italia con il reddito di cittadinanza e Renzi, l'87% ha scelto Renzi. Sibilia ha spiegato il clamoroso autogol alla Aristoteles, allenato da Canà, con il fatto che i lettori e simpatizzanti del Partito Democratico sono accorsi in massa a rispondere. Non è questa una buona notizia per Sibilia, perché vorrebbe dire che nessuno dei suoi se lo è filato. Intanto ne ha collezionata un'altra, a cui prevedibilmente ne seguiranno altri, da cui neanche la Madonna dell'incoronata di Foggia potrà salvarlo. Grazie per la visione!